Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati. TV estate è giunta alla fine di un'altra meravigliosa settimana, oggi nel darvi così l'augurio di un fine settimana stupendo in questa meravigliosa estate calda, vi vogliamo far fare con noi un ennesimo viaggio nelle cose belle di questo periodo fantastico dell'anno. Abbiamo voglia di uscire, di scoprire, di stare in giro e di divertirci. Di tanto divertimento si parlerà in questa puntata e anche di arte. Adesso vediamo come prima cosa dove sono i nostri inviati. Nello specifico vorrei sapere dov'è Stefano Calvi. Lo vedo, lo vedo. Ciao Maria Rosa, ciao a tutti. Allora, noi siamo, come potete vedere, insieme al sindaco Enrico Abrega di Montescalo, perché siamo nella valle del Rile Monzone. E cosa farò qua? Andrò a cercare i fossili. Ho già in mano gli strumenti adatti, andrò a cercare dei fossili che risalgono addirittura 6 milioni e 500 mila anni fa tra i vigneti appunto di Montescano. Quindi andremo insieme al ricercatore Zucconi, che incontreremo tra i filari dei nostri vigneti, andremo a capire quali sono i fossili di questo territorio, perché siamo curiosi, ci piace la storia e ovviamente ci piace anche e soprattutto la storia millenaria di questo grandissimo territorio che è l'Oltreppopavese. Quindi a breve comincerò a scavare per vedere che cosa trovo. Te la linea. Grazie, grazie direttore. Ho visto il direttore con la cazzuola in mano, pensavo avesse cambiato mestiero, tu hai muto il peggio. E invece adesso colleghiamoci con un'artista, un'amica della nostra emittente, lei è straordinaria. Eccola qua, il suo sorriso meraviglioso riempie il nostro teleschermo. Scerrita, Scerrita Durand, ciao cara! Ciao, ciao Maria Rosa, ciao a tutti! Ciao, ti trovi a Tavia, giusto? Sei a casa? Sì, 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 sono a casa. Allora, dopo in una settimana molto impegnativa come lo sono state le ultime, hai trovato un po' di tempo per noi e quindi io adesso ti lascio, torneremo presto perché vogliamo parlare di importanti progetti che ti riguardano e di tutte le novità di quest'estate meravigliosa. Va benissimo, va bene, non vedo l'ora! A dopo cara, grazie! A dopo, a dopo, ciao! E adesso invece andiamo a scoprire, non vedo l'ora, chi ci ha raggiunti in studio. Eccomi, sono particolarmente contenta di presentarvi un cantautore che è già stato parecchie volte ospite dei nostri programmi perché l'abbiamo un po' cresciuto, no? Da quando era alle prime armi, da quando ancora stava studiando, lui adesso è diventato un maestro e soprattutto sta cercando la sua strada nel mondo della musica. Vi presento Daniele Azena. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Daniele, bentornato. Grazie. Come stai? Bene, dai, fa un po' di caldo però... Eh beh, insomma, quello fa caldo... L'estate è iniziata bene. Ecco, fa caldo a giusta ragione anche perché parliamo di cose calde per te, nel senso che è uscito il tuo nuovo singolo, il singolo dell'estate appunto, che si intitola Rune de Caracas. Esatto. Bene, tu ce l'hai anche portato questo brano, questo videoclip bellissimo. Potrete vederlo, esatto. Adesso, fra un po' lo guardiamo tutti insieme, ma non svegliamo subito tutto il mistero di questo bellissimo videoclip, una produzione importante, vero? Sì, allora, intanto c'è un grande progetto dietro a questa canzone, nel senso che è stata scritta, oltre che da me, da altri due coautori, sono anche loro artisti e dal mio produttore, con cui facciamo gli arrangiamenti a Torino. Si tratta di Fabrizio Chiappello. Tra l'altro abbiamo registrato tutto appunto al Trans Europa Studio di Torino. La cosa bella e veramente importante, che poi appunto abbiamo parlato di videoclip, è il fatto che abbiamo registrato, girato il videoclip a Ostia, quindi appunto zona di mare, e la regia è stata curata da Max Nardari, che saluto. Ah, quindi sei andato a Ostia, nel bellissimo litorale laziale, insomma. Quando l'hai girato? Abbiamo girato circa un mese fa. E che esperienza è stata? Ma girare un videoclip è sempre fantastico, poi ogni canzone a sé ha un suo perché, una sua storia, e qui è stato, diciamo, il primo vero videoclip estivo, perché poi c'è stata appunto una troupe dietro, la Reset Production, che mi hanno seguito da inizio a fine, in modo veramente professionale. È stato bello dover anche seguire il copione. Stavolta nel videoclip non sono più io il protagonista, ma divento la voce narrante della storia, e ci sono poi i due attori, che appunto sono i protagonisti principali, a cui gira attorno il video, diciamo. Naturalmente si parla di una storia d'amore, è una storia d'amore estiva, è prettamente estiva, perché appunto queste sono le sonorità, queste sono, insomma, le atmosfere che avete voluto ricercare, naturalmente con la tua scrittura, no? Esatto. È cambiato il tuo modo di scrivere? Tu sei molto giovane, quanti anni hai, Daniele? 25 da poco. 25 da poco. Noi appunto, ti abbiamo conosciuto che eri un bimbo appena maggiorenne, ancora stavi studiando. Allora, diciamo che nel panorama di chi vuole fare il cantante, il cantautore, insomma, di chi vuole fare questo mestiere, ci sono quelli che studiano, che hanno studiato, e ci sono quelli un po' così improvvisati, che magari sono un po' più dei progetti, magari fatti a tavolino anche, no? Anche in passato ci sono state qualche band anche di giovani che hanno iniziato così, o a volte si sceglie un bel faccino e poi si costruisce attorno a un progetto. Tu invece sin da piccola hai studiato musica, giusto? Ci vuoi un po' raccontare? Ma io ho sempre voluto studiare e sono anche stato tanto spinto dalla famiglia, insomma, io ho detto volevo fare musica e loro mi hanno incitato per farne un lavoro, alla fine hanno detto devi studiare, devi arrivare ad avere delle competenze che ti portino ad essere un artista formato. Quindi poi è anche stata una necessità mia e io ho iniziato ad avvicinarmi alla musica grazie ai miei nonni musicisti. Da lì poi è scattato qualcosa di naturale che mi ha portato ad appassionarmi al canto, alla chitarra, poi al pianoforte. Quindi ho iniziato a studiare prima a Vigevano nell'Accademia di Ron, una città per cantare e dopo il percorso del liceo scientifico mi sono spostato su uno studio universitario della musica e da poco mi sono laureato in canto pop rock. È una laurea a fam e quindi è un bel percorso diciamo che ho fatto di quattro anni, sono molto contento. Quindi sei dottore, sei maestro? Diciamo di sì, dai. No, diciamo di sì, lo sei. No, perché poi mi dicono, perché per essere maestro devi studiare ancora di più, però la laurea c'è, quindi... Beh, di studiare non si finisce mai, giusto? Questo ti hanno insegnato i tuoi genitori e questo... Assolutamente, la musica poi è così, si impara sempre, non si smette mai di imparare. Hai degli artisti di riferimento? Ma sono veramente tanti, poiché il mio background musicale, le mie influenze musicali sono davvero tante dalla musica italiana, alla musica straniera, americana, inglese. Ho ascoltato tanto cantautorato, il cantautorato di Dalla, De Gregori, di Battisti, ma anche andare più indietro da Modugno, Tenco. Veramente la musica italiana, dalla musica degli anni 60 fino ad oggi, insomma, ho cercato sempre di ascoltare di tutto e mi sono appassionato alla musica in generale. Quindi voglio dire riferimenti musicali molto molto importanti e molto molto seri per il nostro Daniele. Allora, se dalla regia siamo pronti, io quasi quasi, ecco, siamo sempre pronti dalla regia ovviamente, farei vedere, sei contento, sei emozionato che ce lo guardiamo tutti insieme? Assolutamente. Quante volte te lo sei guardato? Ma io cerco di guardarlo veramente poco perché non vorrei proprio poi gasarmi troppo. Ecco, va bene, allora adesso ci gasiamo una volta tutti insieme. Lo facciamo vedere agli spettatori. Allora, in esclusiva per i telespettatori di Milano, Pavia TV, Daniele Azena con la sua ultima fatica, Rune de Caracas. Non mi crederai mai, ho un ritmo che si muove così forte in testa, forse penso un po' a lei, o è la musica di ieri sera a quella festa. Si ripensa un po' a lei, il suo silenzio che parlava al posto delle sue labbra, ci siamo detti di noi, ad ogni sorso accorciavamo sempre più la distanza. Sai, non mi sento solo a guardare il cielo stanotte, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ricordi il sole, il mare, la voglia di cantare, a squarciagola per ore, senza riposare. Mi porti a trove, a largo, voglio naufragare, Rune de Caracas, che notte, non lasciarmi andare. Ho capito chi sei, sei quella donna che mi lascia a sua fazione e dipendenza, sei bella in quello che fai, quando sorridi poi mi guardi sai fare la differenza. Mi sale un senso di noi, e me ne rendo conto ora che lo vedo a distanza, e ti dicevo ci stai, se andiamo insieme su una vespa dare inizio alla danza. Sai, non mi sento solo a guardare il cielo stanotte, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ricordi il sole, il mare, la voglia di cantare, a squarciagola per ore, senza riposare. Mi porti a trove, a largo, voglio naufragare, Rune de Caracas, che notte, non lasciarmi andare. Correvo forte, senza una meta, giravo senza gravità, tu sei il pianeta. Quanto mi manca, quanto ci manca, sei la supernova che mi chiema fuertell'alma. Il giorno nasce, sulla tua schiena, è stato solo un sogno oppure tu sei vera. Nella mia testa, sei quel motivo, che fa, pa-pa-pa-pa-pa. Ricordi il sole, il mare, la voglia di cantare, a squarciagola per ore, senza riposare. Mi porti a trove, a largo, voglio naufragare, Rune de Caracas, che notte, non lasciarmi andare. Rune de Caracas, qua ce la stavamo ballando. Anche dalla regia, ti fanno i complimenti, bravo, bravo, bravo il nostro Daniele. Ci hai sorpreso con questo lavoro, lo trovo molto maturo. Ti trovo cambiato, reciti benissimo fra l'altro. Beh, ho imparato il mestiere, diciamo che a furia di fare, poi si scoprono anche delle qualità particolari. Insomma, non pensavo neanche di dover imparare la recitazione in un videoclip, comunque devi interpretare come quando canti, no? Quindi, pian piano sta venendo sempre meglio. Bene, bravo, bravo, continua così. Allora, adesso facciamo promozione. Promozione, quindi dove è disponibile il tuo videoclip, comunque questo brano? Videoclip è disponibile su YouTube, lo trovate sul mio canale Daniela Zena. Poi potete seguirmi su Instagram, Daniela Zena Music, sulla pagina Facebook. e la canzone è disponibile su tutte le piattaforme musicali. Quindi scaricatelo, scaricatelo tutti. Bene, bene. Allora, Daniele, adesso torniamo poi a chiacchierare di tante cose, di tanti progetti che ti riguardano. Io però devo andare a vedere se il direttore Stefano Calvi, con la cazzuola, ha tirato su un muro o ha trovato i fossili. Eccolo qua, io lo ritrovo come l'ho lasciato. Non vedo che, insomma, sta cercando, sta scavando. Fossili, ne abbiamo trovati? Direi che ancora non ne abbiamo trovati di fossili, ma siamo sulla strada giusta. Ma nel frattempo abbiamo con noi il sindaco di Montescano, Enrico Abrega, ma perché noi vogliamo capire come mai qua troviamo questi fossili. Allora, buonasera a tutti. Siamo nella Valle dei Fossili. Valle dei Fossili perché? Perché Montescano, oltre che a essere una terra di vigneti, che vedete qua attorno a noi, e di pietra, è anche una terra di fossili. Perché? Perché poi ve lo spiegherà meglio il ricercatore naturalista Antonio Zucconi, che nel 1989 è venuto nel territorio di Montescano e ha iniziato la sua ricerca. È stata una ricerca molto proficua. Infatti, poi, nella seconda parte della trasmissione vedremo il museo che abbiamo allestito con le ricerche dello stesso Zucconi. E' una terra che ci dà soddisfazione, nel senso che hanno trovato anche dei fossili di particolari rilevanze, che poi vedremo nel dettaglio. Quindi, io vi aspetto. Organizziamo, con lo stesso Zucconi, delle giornate a supernotazione nel periodo, diciamo, autunnale, con dei bambini, tipo giornate a tema, con visita al museo e anche passeggiata lungo la Valle del Rilemonzoni, che è stata denominata Valle dei Fossili, dove il ricercatore fa vedere ai bambini come scavare e tutte queste cose. Sono giornate interessanti e speriamo di farne tante. Tante altre, tante altre. Sindaco, so che ti ritroveremo all'interno del museo. Allora, se Corrado mi segue, andiamo a conoscere il ricercatore naturalista Zucconi. Zucconi, allora, perché voglio capire come mai, e lo troviamo proprio qui, mentre sta insegnando ai bambini di Montescano come trovare i fossili, ma prima di capire come si fa, io volevo capire come mai qui troviamo questi fossili. Qui c'era un mare? Qui c'era un mare che è, diciamo, evaporato sui 6-5 milioni di anni fa, che viene definito il periodo messignano, insomma. Ecco, e qui c'è stato un grande deposito di questi sali, chiamiamoli sali, insomma le evaporite, eccetera, dove io vengo e trovo questi gessi, frammenti di legni fossili e foglie, foglie fossili in mezzo a questo, diciamo, arenaria gessifera. Questi qua sono i fossili che trovo a Montescano e dove poi qui a Montescano abbiamo anche all'esteto una mostra permanente che poi spero che si possa andare a visita. Che poi andremo in effetti a vedere. Antonio, come mai ovviamente tu ti sei avvicinato al mondo dei fossili? Mi spiegavi prima dell'inizio della trasmissione che tu, da quando avevi 7 anni, che ero visto i terreni di mezzo nord Italia. Mezzo nord Italia. Ecco, questo qui è vero perché è stato proprio all'età di 7-8 anni dove ho trovato una moneta di epoca romana. È stato il mio primo ritrovamento. Sono molto appassionato di archeologia. Dalle archeologie, facendo ricerche, mi sono imbattuti nei minerali, poi nei fossili. E nell'89 sono approdato a Montescano. Così, io sono un girovago. Sarà, io lo chiamo il mio sesto senso. E qui ho trovato per la prima volta un pezzettino di legno, nell'89, dove poi ho proseguito le mie ricerche. Grazie, diciamo, ai signori, i contadini, ti danno il permesso. Quando si era il terreno, allora escono tutte queste meraviglie. Adesso diciamo che è una stagione non molto, che vado bene, insomma. Noi siamo in pieno estate oramai, c'è molto verde, però qualcosa si trova sempre lo stesso. Qual è il periodo migliore per cercare i fossili in oltre po' o anche a livello generale? Sì, a livello generale sempre ho l'autunno tardi, inverno se non c'è neve, e in principio di primavera, insomma, proprio quando c'è meno folto possibile, e quando il contadino, diciamo, are il terreno. Cioè, ecco, l'autunno oppure fine estate, oppure quando fanno nuovi impianti di vigneti, come accade qui a Montescano molto spesso, adesso qui, diciamo, come si vede, sono tutti vigneti, buone uve, buon vino. Lo dice un intenditore perché lo bevo volentieri. Ecco, io ho ancora una domanda. Allora, poi andremo a vedere il museo che insieme all'amministrazione comunale avete allestito all'ultimo piano del Palazzo Unicipale, una bellissima raccolta. Qual è il fossile che ti ha dato più soddisfazione quando l'hai trovato? Naturalmente, dico la verità, sono le foglie, perché i legni ne avevo già trovati alcuni anche sulla mia provincia di Piacenza, che io abito a Pianello, come avevo già detto. Ecco, ma di foglie mai. Invece qui ho trovato le foglie e i legni. Il gesso è troppo bello perché qui si vede proprio tutta una linea che attraversa metà costa, perciò proprio dire la valle del rio Monzone, che prosegue, e si vedono proprio questi strati gessiferi, sono proprio dei blocchi enormi di gessi, che poi si vedrà i resti, e sono resti di questo mondo scomparso che deve essere stata una grande catastrofe a quell'epoca, una catastrofe veramente biologica, chiamatela come volete, cioè un mare che si prosciuga quasi completamente. La fauna, marina, la flora, cioè tutto cambia. Un mare è un mare, ci saranno voluti i suoi anni, i suoi milioni di anni. Era più quello che evaporava e quello che entrava dai fiumi. C'è stato sicuramente un innalzamento dalla crosta terrestre che l'Atlantico, diciamo, non ha più potuto alimentare il Mediterraneo. Ecco, piano piano, piano piano questo si è evaporato. Penso che si siano formati dei grandi laghi, che si sia proprio prosciugato tutto completamente, però si dice che dagli nostri appennini c'è tutta questa linea che poi arriva fino a, diciamo, attraversa tutto il nostro territorio, Pavese, Piacentino, Bologna, scende e va fino a giù e anche Sicilia. E' solo il vattare siciliano, insomma, no? E' proprio un indizio che questo mare si è prosciugato. In effetti, se noi guardiamo di fronte a noi, si vede proprio questa conca, questa vallata della Rile Monzone e proprio qui ci sono anche delle cave di gesso ben visibili. Sì, delle cave di gesso, esattamente. Infatti qui, nell'Ottocento, io penso, per quello che vedo, anche certe case che sono costruite ancora proprio con il, viene chiamato il sasso di Montescano, che non sono altro che delle arenarie, gessifere, che sono molto dure se non si prendono il lato giusto, però sono anche abbastanza tenere dove si possono rompere, scavare, fare tanti tipi di lavori, come mura, come davanzali di finestre, tante cose, insomma. Ed era molto rinomato la pietra di Montescano. Ho ancora una domanda, poi ridò la linea alla nostra Maria Rosa Aurelio dallo studio. Ecco, io volevo capire, quanti reperti hai trovato nell'arco della tua vita? Perché poi la gente si chiede anche questo. Un ricercatore che passa quasi tutti i giorni della propria esistenza a scavare terreni, guardare nelle grotte, guardare all'interno di rocce, quanti reperti avrai scoperto? Guardi, io ho alimentato. Allora, a Pianello Valtidone sono socio fondatore di un museo archeologico. Ho un piccolo, non lo chiamo museo, come qui a Montescano, una mostra permanente di tutto il materiale. Stradella, Casteggio, Piacenza, Parma, ci sono i miei prodotti di ricerca e ritrovamento, archeologici e anche fossili. Insomma, hai riempito i musei di mezzo nord d'Italia. Poi cercheremo di capire da te come si trovano anche, perché insegna anche ai bambini, come ricercare i fossili di questi importanti pietre. Maria Rosa, io ti restituisco la linea, poi ci ritroveremo qui, come sempre in diretta, tra i vigneti di Montescano a trovare i fossili di circa 6 milioni di anni fa. Che meraviglia, veramente, ci ha appassionato questo racconto, come ci ha appassionato vedere i bambini che scavano, che tenerezza. Adesso torniamo a parlare con un altro che io ho conosciuto quasi da bambino, ma che adesso è cresciuto, quindi un bambino cresciuto, il nostro Daniele Azena. Scusami Daniele, se io ti chiamo il bambino cresciuto, però appunto ho questa tenerezza nei tuoi confronti. Sei arrivato qui la prima volta accompagnato dal tuo papà con mille sogni del cassetto. Diciamo che qualcuno si è realizzato, no? Un brano molto importante, ti ha permesso di arrivare alle selezioni di X Factor. È un brano proprio che hai dedicato al tuo papà, insomma. Quindi questa sua voglia e questo suo starti accanto, insomma, continua. Ed è continuato con questo brano e questa esperienza stupenda. Ci vuoi raccontare qualcosa? Ma X Factor sicuramente è stata una bellissima esperienza. Mi ha fatto anche crescere. Sono andato lì in un periodo molto particolare della mia vita, ma sono riuscito a capire quanto ancora dovessi fare per trasformare quello che era i tempi rabbia, dolore, quindi tutto ciò che riguardava una situazione difficile, trasformarlo in forza. Quindi ho fatto questo percorso dopo X Factor, che comunque assolutamente ho ricordi positivi perché cantare davanti a tantissima gente in un palazzetto, davanti ai giudici, ti lascia comunque molto. Fa veramente un po' timore essere davanti a questi quattro giudici? È veramente... Cioè, è una cosa anche difficile da spiegare perché devi essere lì per capirlo. È tutto molto grandioso. Chi è stato il più carino con te? Ma sicuramente Samuel, dei Subsonica. Sì, ha avuto belle parole. Sì, 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 assolutamente. Poi mi piace molto come artista. È fra cantautori, insomma. Ci si capisce. Vi siete capiti. E hai capito anche, probabilmente, forse proprio in quel momento, che era un po' prematuro per te stare all'interno di un talent in quel contesto. È vero o no? Sì, sì. Come ho detto, ho fatto un percorso dopo questo talent, quindi probabilmente non era ancora il momento. Cioè, non ero ancora emotivamente pronto per affrontare una situazione del genere, che comunque è una situazione importante. Però, ecco, dopo un anno, poco più di un anno, insomma, ho poi realizzato la mia canzone, che è uscita a fine gennaio, al di là del cuore, che è proprio l'esempio di questo percorso realizzato, cioè di quanto io sia riuscito a ritrovare me stesso, e il video lo descrive benissimo. Quindi andatevela a guardare, andatevela a scaricare anche al di là del cuore, perché è proprio, diciamo così, il brano della svolta, no? Per il nostro Daniele. Allora, fra un minuto devo andare in pubblicità, però voglio, insomma, tornare e stare un attimo sul discorso talent, lo riprendiamo dopo. Adesso voglio una risposta secca da te, no? Poi la approfondiamo. Secondo te, che sei in questo mondo, i talent sono davvero l'unica maniera per emergere per un giovane che vuole fare questo lavoro? Secondo me no. La risposta secca è questa. Ok, secondo te no, e infatti il tuo percorso è differente. E adesso, dopo la pubblicità, spieghiamo meglio e capiamo perché il talent non è l'unica alternativa per chi vuole fare questo lavoro. Eccoci qua, siamo tornati in studio. Lo facciamo con il nostro Daniele Azena, il nostro cantautore. Noi siamo affezionati perché, insomma, poi Daniele è di Vigevano, quindi proprio del nostro territorio, quindi vogliamo che cresca in tutti i sensi. Quindi andate subito a scaricare sulle piattaforme i suoi brani, seguitelo, taggatelo, andate su Instagram, cercatelo, insomma. Tanto affetto per lui, tanta vicinanza, deve arrivare in prima battuta dal suo territorio. Grazie. Anche se quest'estate poi il tuo impegno, in realtà a settembre, sarà a Civitalecchia, uno importante, vero? C'è un bel festival di musica, arte, spettacolo, cinema, e quindi sarà ospite, sarà sicuramente una bella cosa, un bel evento. Allora, Daniele mi diceva, allora perché, con tutto il rispetto per i talent, magari poi nella mia vita lo farò, è sicuramente un'esperienza forte, bisogna essere strutturati. Ma io voglio cantare, voglio stare live. Sì, sì, assolutamente. Allora, diciamo che quello che ho capito nel mio percorso che sto affrontando è che per farti sentire di avere comunque qualcosa da dire, di avere qualcosa da dire. Se tu hai qualcosa da dire, hai un progetto, hai delle idee, hai voglia di trasmettere qualcosa che sia propriamente tuo, il modo di emergere prima o poi lo devi trovare, lo trovi. Al talent c'è questo rischio, sempre a parare mio, che sia tutto talmente così fugace, veloce, che tu non abbia neanche il tempo di esprimerti veramente per quello che sei, artisticamente parlando. O magari sei, insomma, sei un po' come in un tritacarne, in mille situazioni che tante volte non hanno a che vedere strettamente con la musica, giusto? È un insieme di cose, sicuramente. Un insieme di cose. Quindi volendo e potendo, uno che ha fatto l'università, ha studiato canto e tutto, vuole fare il suo percorso classico. Adesso, caro mio, ti faccio conoscere un artista davanti alla quale ti devi togliere il cappello, se già non la conosci. Andiamo a Pavia da Sherrita Duran. Eccola qua, bellissima. Allora, Sherrita, dobbiamo parlare di tante cose, però la prima è questa. Cosa hai fatto? Sei più giovane, più bella, più fresca. È la felicità, è l'amore, è la musica? Guarda, tu sei bellissima. Grazie per il complimento. Sono felice. Oggi sono molto stanca, perché ieri ho finito di girare il mio videoclip della mia canzone Beautiful Deep, che sarà il singolo del mio disco. Bene. Oggi sono un po' stanca, ma grazie per il complimento. Sono rispata. Ecco, magari è quello. Quella sensazione, sono molto contenta. Poi, sì, sì, poi ti spiego, ti spiego. Bene. Allora, Sherrita, noi, insomma, ti ringraziamo perché ci hai veramente concesso questi minuti insieme, perché ovviamente tutti ti abbiamo vista in giro per Pavia, sotto il ponte coperto, con una troupe meravigliosa, con un abito stupendo, con un pianoforte, e quindi siamo curiosi, capisci? Perché poi, insomma, tu non puoi girare per Pavia così e poi non raccontarci niente. Infatti, adesso ti spiego. No, guarda, veramente, quella è stata un'esperienza incredibile. e nasce così, perché io cercavo un regista per il mio videoclip e praticamente due cose bellissime si sono combaciate così. Marco Rognoni, di Marco Rognoni Visuals, il regista, bravissimo, poi un complimento a lui, a tutto il suo team, perché hanno fatto un lavoro strepitoso. e praticamente questo discorso qui di fare qualcosa di bello per la città, settantesimo l'anniversario di Ponte Coperto e poi prima non sembrava che qualcuno stava facendo qualcosa, no? E lui, questa è la sua idea, lui fa, guarda, dobbiamo fare qualcosa, qualcosa che non è stato mai fatto sul ponte, dobbiamo fare questo. e lui era talmente convinto e ha detto vai, vai, facciamolo, no? E poi è riuscito a fare quello a questo bellissimo omaggio alla città con la canzone Bridge Over Troubled Water, famosissima canzone, poi il testo che parla di superare momenti difficili e di essere noi come il ponte e secondo me ci vuole quello, anche senza tradurre tutta la canzone e di essere noi come un ponte di collegamento fra di noi l'uno e l'altro, no? Certo! E invece c'è anche da dire ovviamente non tutti erano contenti della chiusura del ponte, poi col comune abbiamo cercato ovviamente di scegliere un orario, un giorno che sarebbe stato meno pesante per la città, uno, dopo la chiusura della scuola, poi la mattina così di fare qualcosa di bello senza dare troppo fastidio ma alcune persone veramente guarda non voglio parlare di cose negative solo che lì guarda girando c'erano delle situazioni pesate. non ci devi spiegare niente non ci devi spiegare niente sappiamo sappiamo che certe persone che non vogliono fare il ponte sono un po' negative quindi vedrai che questo è un bellissimo regalo per la città di Pavia grazie tu pensa se doveva arrivare una ragazza dalla California per girare un videoclip dedicato alla sua amata famiglia guarda sarà bellissimo e dovrebbe uscire in settembre questo video per anche portare in importanza la città di valorizzare ancora di più il turismo della città poi abbiamo girato prima quello dopo abbiamo girato la mia canzone Beautiful Deep veramente secondo me vedranno fuori delle immagini da immagini strepitose poi ieri eravamo da prime alture per girare la seconda parte del mio video poi per il discorso del pianoforte sul ponte bianco quella è stata l'idea dell'agenzia Tango Wine Laura Tango Wine lei ha sponsorizzato questa bellissima cosa poi c'era il suo team e vorrei ringraziare tutto il staff dell'agenzia Tango Wine per tutta la cura tutto tutto l'entusiasmo che l'hanno portato in questa esperienza qui veramente una cosa unica non vediamo l'ora non vediamo l'ora di vedere questi tuoi meravigliosi lavori ascolta Cerita qua in studio non so se ci hai un po' seguito abbiamo un giovane talento anche lui del nostro territorio divigevano Daniele di azienda ecco quindi ciao ho sentito mi raccomando scarica il suo singolo Room de Caracas ascoltalo e poi magari lo chiami gli dai qualche consiglio perché lui ha bisogno insomma di crescere e di fare tanta tanta esperienza è già bravissimo però veramente mi piace che nascano delle sinergie fra artisti del territorio però adesso ti devo chiedere una cosa dimmi a proposito di bei ragazzi hai visto che qua Daniele è un bel ragazzo sì sì bello sembra anche che sia un ragazzo in gamba con la testa a posto sì grazie no è bravo e con la testa a posto io ti volevo chiedere come è stato lavorare con quel figaccione di rama guarda quello devo dire lavorare con lui nell'esperienza di Sanremo quello è stato una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto in Italia a livello artistico ti dico ovviamente Sanremo quello è stata un'esperienza unica incredibile puoi lavorare con lui bellissimo perché ovviamente ogni artista ha la sua immagine devo dire che dopo quello abbiamo fatto anche altre cose insieme lo sa lo sa abbiamo fatto concerti insieme è nata proprio un'amicizia fra di noi e lui devo dire di lui che è un ragazzo in gamba umile educatissimo che è veramente un ragazzo educato senti se capita cena a casa tua me lo presenti mi inviti mi inviti va bene va bene ti rivedremo in televisione io guarda io spero di sì adesso non ho qualcosa di concreto di condividere adesso ma spero di sì e poi appena spunto fuori qualcosa ti faccio sapere eh infatti infatti ci abbiamo vista anche all together now insomma tantissime cose belle ma tante ne verranno sono sicura perché sei una positive lady grazie anche tu anche tu veramente grazie lo sai che ti voglio bene ti ho un po' invidiata ma ti voglio anche bene ti voglio bene anch'io sei bellissima poi tu guarda vai avanti e rigovenisci sempre di più bellissima eh potere potere delle donne grazie cara un bacione ti aspetto in studio appena sei un po' più libera va bene? va bene volentieri promesso grazie grazie veramente ciao saluta a tutti ciao 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 e adesso dopo questa meravigliosa scerrita che davvero riempie lo schermo con la sua personalità e la sua dolcezza andiamo a vedere che cosa sta combinando coi fossili il nostro Stefano Calvi eccolo lì quello fa scavare solo i bambini non è che tipo si dà da fare un pochettino anche lui niente è lì imparato Stefano allora io sono qui sì imparato perché vi voglio raccontare questa storia non è io ho già scavato guardate che cosa ho trovato no a parte gli scherzi siamo ancora con Antonio Zucconi insomma che è il ricercatore che qui a Montescano trova questi magnifici fossili ecco noi siamo curiosi qua dentro che cosa c'è allora nella cassettina ci sono dei frammenti di legni pietrificati sono legni fossili e abbiamo dei frammenti di gesso testimonianza di questo antico mare che praticamente si è prosciugato formando le evaporite formando insomma questi gessi e qui abbiamo una squadra di giovani archeologi o geologi che stanno scavando stanno cercando purtroppo la stagione non è propizia ecco vorrei far vedere una curiosità parlando di gesso potrei prendere un pezzo ecco di gesso sempre testimone di questo mare ecco se io apro questo gesso in questo modo ecco ecco lo apro però se lo annuso io so di che profumo sa provo io provo io sembra di benzina di idrocarburo idrocarburi esattamente perché si dice che è il gesso trasformandosi si trasforma poi in solfo però io queste cose non le so perché io sono soltanto un appassionato ricercatore non tocco questi termini però si sente questo odore di cherosene petrolio quello che dice lei ecco va bene ha visto come si presenta poi ecco questo sarebbe il gesso ecco testimone di di queste grandi evaporite che io trovo lungo a questa mezza costa di Montescano ecco specialmente quando il contadino insomma sistema il suo terreno adesso come dicevo non è non è stagione ecco questi qua li ho messi appunto per far vedere però non è che li troviamo adesso ecco certo ecco io ho una curiosità sono sempre stato attratto da gente come voi che trova fossili che trova gessi che trova pietre antiche passami il termine ecco quali sono gli attrezzi che utilizzate sono attrezzi semplici? sono attrezzi semplici allora uso una pala uso un cazzuolino poi un martello con uno scalpello per aprire oppure per staccare i pezzi senza rovinarli dal terreno che è molto compatto e ci vuole molta pazienza fogli di giornali naturalmente per avvolgerli perché così non si vengono a contatto non si rovinano ci vuole una grande pazienza solo una grande pazienza pazienza e una grande passione certo la grande passione è fondamentale in tutte le cose qui come dicevamo siamo tra i vigneti di Montescano però ovviamente tu Antonio hai scoperto fossili che arrivano anche da altri territori della provincia di Pavia e del Piacentino anche i fiumi regalano regalano delle sorprese specialmente specialmente il fiume Po quando il fiume Po dopo queste inondazioni purtroppo che avvengono e fa delle distruzioni ma però dopo il suo ritiro quando va in secca io passo delle giornate con bel tempo cattivo tempo caldo freddo anche io ricero e faccio le ricerche lungo le sue sabbie i suoi iaieti e lì diciamo che ho trovato veramente molti resti di animali del quaternario ecco per dirne uno che diciamo che è come il cacciatore e la lepre resti di mammut qualche frammento di molare qualche frammento di corno di questi antichi bisonti cioè sono animali che vivevano insieme nell'ultima era glaciale insomma che si dice che è terminata sui 12.000 10.000 anni fa ecco il Po è molto ricco di queste testimonianze qua vediamo bambini sono 5 bambini di Montescano poi se avremo tempo chiederemo anche loro i loro nomi a te piace tantissimo insegnare alle nuove generazioni come trovare e come riscoprire il passato allora veramente ho porto sempre tanti bambini accompagnati dai genitori li porto in posti sicuramente tranquilli dove non c'è pericolo e li vedo sempre veramente molto affascinati molto attivi ecco a me piace questo perché mi fanno tornare ragazzino anche io come la prima volta che ho trovato diciamo il mio primo reperto archeologico e questa appassione non mi ha più abbandonato fino ad oggi e vedo che sono molto appassionati insomma vedo che si appassionano molto trovano qualcosa trovano qualcosa sì sì anche ultimamente li ho portati sempre qui su questo valle del Monzone anche loro si mettono lì con loro acquazzuoli i loro pennelli spazzolini e trovano già su qualche frammento di legno e sono contentissimi poi c'è una bella diciamo merenda per dire insomma si passa dei bei pomeriggi insomma ecco siamo in compagnia contenti e così bambini in modo corale vi piace scavare? molto bene Maria Rosa allora io insieme ad Antonio Zucconi andrò a raggiungere il sindaco Enrico Brega perché adesso ci apriranno in esclusiva per noi per le telecamere di tv estate questa bellissima raccolta che si trova all'ultimo piano del palazzo municipale dove andremo a vedere i pezzi forti chiamiamoli così di questa ricca collezione di fossili raccolta proprio qui a Montescano quindi nel prossimo collegamento andremo a scoprire questo bellissimo museo dell'Oltreppo Pavesa te la linea grazie grazie al nostro direttore non vediamo l'ora di vedere il museo e capire ma vediamo se riusciamo a capire questi fossili che cosa sono se riusciamo a trovare una forma conosciuta e adesso una forma conosciuta ce l'ho ed è il nostro Paolo Barni voglio andare a vedere se c'è qualche anticipazione interessante e allora dicevamo forme di vita conosciute nello studio del nostro telegiornale dove è pronto Paolo Barni per l'edizione serale naturalmente dei nostri notiziari e quello dedicato a Milano e quello dedicato a Pavia Paolo hai delle anticipazioni per noi? tantissime anticipazioni buonasera Maria Rosa buonasera agli ospiti e buonasera naturalmente ai telespettatori di tv estate perché tantissime notizie ma soprattutto apriremo con una buona notizia la buona notizia un annuncio che era stato dato dall'assessore welfare Letizia Moratti in mattinata tra l'altro il primo annuncio era stato dato a Vigevano ripetuto vista l'importanza anche a Milano cioè che nelle scorse 24 ore non ci sono stati morti per coronavirus in Lombardia e pensate che una intera giornata senza morti legati alla pandemia sulla nostra regione non la si vedeva dal 6 ottobre scorso questo fa capire quanto sia importante questo traguardo che naturalmente tutti noi ci auguriamo possa essere mantenuto e giornate così possano essere la regola per il futuro e non una notizia da prima pagina bensì un ritorno alla normalità e l'altra buona notizia sul fronte sanitario è una conferma nell'arrivo delle forniture di vaccini rispetto al piano originario o più o meno insomma con una lievissima flessione ricorderete che nelle scorse settimane c'era stato espresso il timore che per i mesi di luglio di agosto si andasse incontro a una riduzione delle scorte così non sarà o perlomeno non sarà la riduzione delle scorte tale da compromettere l'andamento della campagna vaccinale e nel contesto si è anche detto che mentre il mese di luglio e l'inizio del mese di agosto come la previsione rimarranno sostanzialmente dedicati alle seconde dosi con invece l'ultima settimana di agosto saranno riaperte le prenotazioni per i ritardatari insomma per chi ancora non si fosse prenotato due notizie di cronaca una da Vigevano e l'altra da Milano cominciamo da quella da Vigevano perché è quella più grave stiamo parlando di un tentato omicidio venuto all'alba di oggi in strada San Marco pensate un uomo si è visto puntare un seghetto da giardino alla giugulare dal vicino di casa è riuscito a salvarsi miracolosamente schivando il colpo è comunque rimasto ferito in maniera piuttosto grave ma appunto salva la vita l'aggressore è stato arrestato invece a Milano abbiamo già parlato brevemente nel TG nell'edizione giorno c'è stato questo maxi sequestro di droga quasi mezza tonnellata di hashish che è stata recuperata dalla polizia di stato e quindi segnalo soltanto in conclusione due progetti uno che riguarda Milano e non solo 24 comuni nell'asse che da Milano arriva fino a Malpensa saranno interessati da un'autostrada verde un progetto da un miliardo di euro si parla di costruire una foresta pensile sopra la stazione di Milano Cadorna e poi fare una ciclabile contornata da 800 mila alberi che appunto da Cadorna porti fino a a Malpensa e invece un altro progetto importante per la provincia di Pavia l'inaugurazione del reparto di emodinamica dell'ospedale civile di Vigeva per attesa da anni c'erano stati ulteriori ritardi dovuti a tutto quello che sappiamo che è successo con la pandemia oggi l'inaugurazione queste però non saranno le uniche notizie del telegiornale anzi dei telegiornali di Milano e di Pavia ma per il momento mi fermo qui Maria Rosa grazie grazie Paolo Barni non vediamo l'ora di ritrovarti alle 19 nel nostro telegiornale e adesso per voi e per noi un po' di pubblicità e allora tutto il tempo qua a farci le storie su Instagram ascoltando Rum de Caracas insomma avere un giovane in studio mi fa tornare giovane cioè io sono giovane però mi fa tornare ventenne diciamo così non dite se dalla regia che vi sento comunque detto ciò Daniele caro mio so che questa sarà un'estate di lavoro per te perché torni in studio giusto? assolutamente luglio una parte di agosto però mi ritaglio anche una vacanzina dai sarai in studio a registrare tutte le tue nuove canzoni perché come tutti il covid ha un po' interrotto i tuoi lavori giusto? sì esatto c'è stato un anno molto complicato ma un po' per tutti gli artisti musicisti adesso però non vedi l'ora di tornare in studio assolutamente anche di tornare live ci sarà qualche live in giro quindi potete rimanere aggiornati sulla pagina tra l'altro una bella cosa è che ho ho fatto un'esibizione al castello di Milano il 20 giugno come è stato tornare veramente veramente bello ti sei gasato una grande emozione poi il pubblico tantissime persone nel castello sforzesco abbiamo parlato della musica per il bene delle cose era l'argomento quindi è stato veramente bello quindi ti sei insomma hai preso l'energia dal pubblico per ripartire bene per ripartire bene hai preso l'energia per chiudersi in studio a registrare giustamente ci vuole anche energia per quello ma ti piace anche il momento dello studio della solitudine sì sì perché alla fine fa parte del lavoro è un qualcosa di bello perché c'è creatività quando c'è creatività c'è gioia piacere quindi quando parlo con un cantautore mi piace sempre sapere questa cosa qui scrivi prima la musica o prima le parole allora principalmente la musica prima perché suonando gli strumenti si inizia appunto con l'armonia dello strumento quindi che sia il pianoforte o la chitarra poi la melodia del cantato e poi le parole ovviamente ho un tema ma componi con la chitarra o col piano tutte e due tutte e due tipo Rune de Caracas dove ti viene in mezzo Rune de Caracas è nata con la chitarra infatti nel videoclip cioè la chitarra si sente nell'arrangeamento hai in mente tu ovviamente non hai partorito non partorirai spero però non sto mai con sto mondo vabbè comunque detto ciò io invece quando ti ricordi determinanti momenti della tua vita quando nasce tuo figlio non te lo puoi scordare per te ti ricordi il momento in cui ti è venuta la prima melodia la prima nota di Rune de Caracas ma è una canzone che è nata circa è nata in periodo invernale ancora perché c'era voglia di caldo di estate di mare quindi è nata praticamente così poi ovviamente c'è la storia dietro cioè nasce tutto da una frase da una frase tipo beviamoci questo room di Caracas e quindi nasce da quello da lì ho capito quindi anche anche insomma una frase tu lo sai che tipo Vasco Rossi i suoi più grandi successi li ha scritti in tre minuti è quel diciamo il lampo di genio di genio che sia pensa se ti capita un lampo di genio alla vasca vieni qua lo presentiamo qui me lo prometti sempre un piacere anche se diventi famoso famosissimo poi te lo ricordi della zia Mari qua ci siamo ah meno male perché insomma questo è importante non voglio dire la pipo baudo ti ho scoperto l'ho inventato io però insomma è stata una bella partenza è stata una bella partenza sì col botto e allora che meraviglia adesso appunto il tuo disco quando dovrebbe uscire? parli di a livello di album di album stiamo appunto facendo le canzoni bisogna vedere perché poi nella musica ci sono sempre un sacco di dinamiche da rispettare quindi non si sa ancora stiamo lavorando alle ma no poi tu sei pure cioè gli artisti sono anche superstiziosi quindi non voglio mai dire niente si potrebbe dire anche altre cose che sto facendo ma preferiamo tenerle infatti cioè quando te li intervisti questi artisti qua è difficile diciamo no non la possiamo dire ancora diciamo quest'altra cosa no 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 va bene allora dove vai in vacanza parliamo di questo veramente lo vuoi sapere lo diciamo ma nella nostra bellissima Italia è in Salento in Salento quindi sarà una vacanza così dedicata al mare tu ami il mare vero? più della montagna sicuramente ok con chi vai in vacanza? vado con la mia ragazza e ci facciamo questi dieci giorni di ma non te l'hanno detto che per diventare famoso non devi no sto stanzando viva l'amore sempre viva l'amore sempre insomma poi le fan se ti vogliono seguire ti seguono lo stesso è vero o no? assolutamente conta la musica quello che si fa bene bene allora adesso quello che invece noi dobbiamo fare è andare dal direttore Stefano Calvi che ci sta aspettando all'interno del museo e vedere qualche fossile proprio di quelli importanti eccoci qua Stefano all'interno del museo finalmente dicevamo perché vogliamo vedere qualcosa di veramente importante qualcosa di certificato di comprovato no? di fossile hai detto bene Maria Rosa ci siamo spostati dai vigneti a questa magnifica raccolta permanente di fossili minerali siamo ancora con Antonio Zucconi Antonio qui troviamo i veri e propri fossili quelli che insomma vediamo nei libri quindi foglie e altre cose di questo genere sì qui siamo nella sala nel municipio di Montescano dove è stata allestita questa mostra permanente del materiale che ho trovato qui nel territorio qui abbiamo i resti di foglie fossili a quelle impronte di foglie fossili dentro in questo arenaria gessifera abbiamo altre foglie da questa parte che poi le foglie sono le più le più difficili poi le più delicate da trovare rispetto a tanti altri fossili sono molto delicate ci vuole veramente un ambiente veramente un ambiente sano buono per la fossilizzazione ecco qui abbiamo altri tipi di foglie ma io sono incuriosito da una da un fossile gigantesco che qui davanti a noi passami il termine giriamoci a favore di telecamera vieni Antonio allora che cosa c'è qua un leggo frammento di pianta pietrificata di conifera sì ecco questi qua sono i tipici i tipici le tipiche piante che esisteva allora diciamo che da noi erano proprio le conifere e questo qui è un grande un grande pezzo è unico di questa grandezza trovato finora ecco sono i resti che poi ho dovuto ricomporre naturalmente perché non è che si possa togliere in questo modo quindi tu trovi tutti i frammenti e poi li unisci per dare proprio l'insieme totale come era come era nel suo sedimento perché toglierlo intatto così è impossibile che come si vede è tutto fratturato però pezzato per pezzato numerato per una mura numerato poi ricomporlo c'è avuto il suo tempo però era come quando l'ho trovato ed è un grande reperto perché così grande non li ho mai trovati Antonio qua sono tutti i reperti che hai trovato tu proprio qui nella valle del in quanto tempo li hai trovati e soprattutto quanti sono in termini numerici più o meno sono tantissimi qui il primo frammento come dicevo è stato nell'89 1989 il primo frammentino di legno che mi ha dato poi il via alle ricerche c'è sempre le ricerche avvengono come dicevo durante le arature in inverno quando c'è meno o meno vegetazione inizio primavera quando il contadino insomma lavora la sua terra è il momento così oggi come oggi invece è un po' dure perché come si può vedere c'è troppo verde quanti reperti ci sono qual è il museo guardi sinceramente parlando io non ne ho neanche contati ce ne sono tanti e tanti ne verranno ancora perché io verrò spesso ancora da queste parti fare le ricerche per arricchire sempre di più questo bellissimo museo diciamo per il momento mostra permanente non si può ancora dire museo ma spero che con la forza della nostra sindacca qualcosa si sta muovendo e penso che diventi veramente una grande attrazione per gli studenti per i ragazzi delle scuole eccetera Antonio io ti ringrazio davvero di cuore per questo viaggio magnifico la scoperta dei fossili dell'oltrepopavese vado dall'altro capo del museo della sala dove ritroviamo il sindaco Enrico Brega perché davvero come diceva Zucconi questa raccolta rappresenta una grande eccellenza per questo territorio in effetti come diceva Zucconi dopo la prima mostra che abbiamo fatto in una sala qua sotto nel 2009 abbiamo visto che è stato molto la gente era molto interessata quindi abbiamo deciso di allestire questo come diceva lui esattamente mostra permanente perché non è ancora museo perché stiamo facendo adesso gli accreditamenti per registrarci nella rete dei musei della Lombardia siamo in fase di autorizzazione perché credo che sia veramente da promuovere in quanto è ricco di storia del territorio ma anche una storia che interessa un po' a tutti perché i nostri bambini dagli elementari possono venire a chilometri zero a visitare delle cose che a me personalmente mi hanno portato a vedere lontano lontano quindi al momento il museo è visitabile solo su prenotazione telefonando al numero del comune 0385 60 033 lasciando il cellulare un recapito che poi io contatto Zucconi e si organizzano diciamo queste speriamo di riuscire a tenerlo aperto quando sarà museo un giorno alla settimana e adesso sarà mio obiettivo cercare di sensibilizzare e ad andare negli istituti scolastici a far conoscere questa piccola realtà ma che è degna di riconoscimento quindi io mi impegnerò per ringrazio Zucconi che senza lo Zucconi non avremmo neanche scoperto i fossili di Montescano perché è stata una cosa casuale cioè il territorio era un territorio ricco di fossili ma se non arrivava Zucconi nessuno dei contadini credo che si sarebbe verso lì a scavare solamente un appassionato come lui quindi io do merito a Zucconi spero che con il vostro aiuto e la diciamo la divulgazione della trasmissione e di tutto si venga a conoscere questa piccola realtà e io spero di vedere tante persone a Montescano e che Montescano sia anche ricordata oltre che per il vino e per altre cose anche per i fossili i fossili di Montescano in effetti è una nuova attrazione una bella attrazione anche suggestiva e storica questa dei fossili perché oltre a bere un buon bicchiere di vino di queste colline si può anche ammirare la storia davvero milionaria pensatemi questo termine del territorio io ringrazio davvero il sindaco Enrico Abrega ringrazio lo studioso ricercatore Zucconi per questo meraviglioso viaggio io chiudo qui da Montescano ti ridò la linea Maria Rosa Aurelio grazie grazie Stefano Calvi grazie per questo bellissimo viaggio a Montescano e speriamo che trovi un fossile milionario che ci risolve tutta la faccenda degli sponsor qua portalo a casa il fossile milionario e adesso noi continuiamo la nostra chiacchierata con Daniele a cena allora nel frattempo avete tutti scaricato Room de Caracas siete a casa io già me le vedo le mie delle spettatrici domani mattina quando danno quando fanno i vetri il sabato mattina Room de Caracas na 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 tutto è così domani accompagna bene dai te lo assicuro io domani risuonerà in tutte le case dove arriva il nostro segnale in tutta la Lombardia quanto meno senti un po' Daniele siccome io sai che non è che ti voglio bene a casa ti voglio bene perché sei un bravo ragazzo perché se fossi un disgrazia non è che mi affezionavo così tanto e che tu sia un bravo ragazzo che vieni da una bella famiglia e insomma che avete coltivato questo tuo sogno e davvero l'avete fatto crescere pian piano è che tu adesso è finito l'università come tutti i ragazzi insomma si affacciano al mondo del lavoro e si sa che il tuo lavoro è un po' particolare soprattutto in un periodo come quello del covid non è che uno vive solamente scrivendo e componendo la canzone quindi tu ti dai da fare però hai detto io mi lavoro solo nel mondo della musica al 100% è così vero? esatto a 360 gradi cioè io oltre che diciamo curare il mio progetto seguire il mio progetto il mio sogno da artista mi piace anche lavorare con altri artisti con altri artisti e per altri artisti cioè mi piace arrangiare produrre quindi sto diventando anche un arrangiatore mi piace scrivere icone per altri e anche insegnare le canzoni quelle belle tienite le tue cioè non è che i pezzi buoni tieniti facciamo una bella selezione dai dai qualcosa ma poi alla fine dipende c'è pezzo e pezzo c'è l'artista giusto per ogni canzone e poi insegnò anche chitarra canto e pianoforte che meraviglia i bimbi esatto inizierò a settembre poi fisso a Milano e quindi veramente la musica fa parte della mia giornata da mattina a sera dalla mattina a quando vai a dormire e senti abbiamo detto c'è ancora qualcosa a parte le cose che non possiamo dire però insomma c'è un ringraziamento che vuoi fare un messaggio che vuoi dare qualcosa che vuoi dire abbiamo un minuto assolutamente voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto in primis mio padre la mia famiglia il team che ho dietro i miei amici la mia ragazza tutti quelli che mi hanno mi hanno sempre sostenuto bene bravo è importante veramente importante la sua manager che è stata carinissima e che insomma oggi mi ha ti ha permesso di essere qui insieme a me ti so che ti cura tantissimo e davvero seguiamo questo ragazzo non perdiamolo di vista perché farà tanta strada Runde Caracas nel singolo dell'estate del nostro Daniele Azena torna quando vuoi quando volete voi per me è sempre un piacere bene il piacere anche per noi con voi invece cari amici ci vediamo naturalmente lunedì sempre a partire dalle 17.30 sapete che staremo insieme fino alla fine di luglio quindi settimana prossima staremo dentro staremo fuori faremo tantissime cose sempre per voi a lunedì grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.